Si fingono nipoti o corrieri per raggirare persone anziane con la truffa del pacco. La truffa del pacco con la telefonata agli anziani continua a verificarsi in diversi comuni del Cilento. È il caso di una famiglia di Castellabate. La nipote ha voluto raccontare la sua esperienza su Facebook per mettere in guardia quanti ancora sono ignari di queste telefonate da parte di truffatori con lo scopo di derubarli. Non utilizzo spesso i social. Se succede cerco di farlo per buone ragioni e questa credo sia una di quelle scrive una ragazza. Oggi verso ora di pranzo hanno cercato di derubare la mia famiglia. Squilla il telefono a rispondere mio nonno di 82 anni dall'altro lato della linea. Qualcuno che si è finto mio fratello specifico che ha detto anche il suo nome. Sono una persona riservata ma devo puntualizzare che mio fratello è via da Castellabate. per buone ragioni e quindi questo qualcuno lo sapeva e ne ha approfittato. Dopo una breve conversazione formale con mio nonno, ignaro di tutto ovviamente, questo qualcuno comunica che sarebbe arrivato un pacco per mio fratello e che avrebbe dovuto pagare al postino questo pacco. Per fortuna all'ascolto della telefonata c'era mia madre che ha capito tutto e ha mandato a quel paese questa persona. Anzi, sembravano essere più di una dalle varie voci di sottofondo. Ovviamente il tutto è stato già denunciato ai carabinieri e sembrerebbe che in giornata si sono verificati altri casi del genere. Mi sembrava giusto e doveroso mettere in guardia per tutto quello che può fare un post su un social, tutte le persone che conosco e soprattutto di raccomandare e proteggere le persone più anziane che avete accanto. È una cosa davvero triste questa, approfittare di loro e del fatto che un nonno che non vede un nipote da tempo possa soltanto essere felice di aiutarlo in quello che gli viene richiesto. Altre volte ho sentito di questi accaduti ma quando ti capita capisci che ci si sente violentati psicologicamente. Se avete bisogno di soldi imparate a guadagnarli con dignità e onestà proprio come ci ha insegnato nostro nonno. Questo lo sfogo della cittadina cilentana che amareggiata di quanto accaduto ha lanciato sui social l'ennesimo allarme.